Buongiorno a Mr. Manicomio Gianluca Tilesi, number one. Stasera un gravito ritorno con la sua tournée bambiale in Sud America alla percussione del nostro fratello Manicomio Gaetano Capita. Direttamente dall'America, ce l'abbiamo solo noi un bassistico così ragazzi, elettrico, number one. Michele, Mike, Iafrancesco, passo elettrico. Ragazzi, alle tastiere del piano non ce n'è, grazie solo il grande Daniele, grazie. Mr. Sandro Verde. Manicomio Fett, voce chitarra, senti Martino, grazie. Noi guardiamo questo pezzo. C'è chi al mattino fa l'azione, con il pancarello. Quando mi sveglio lo sai, se non mi ascolto il Jamstown, non lo va a cair. Basta poco se vuoi, perché si è tutto ok, non lo ricai. Noi ti senti più, non mi di quasi mai. C'è chi al mattino fa l'azione, con il canale. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti